non camminare non stargli dietro allora già qua vedo un'indicazione importante che è il ristorante speriamo di sentire i falchetti anche qua falchetto is the new marmotta non credo hanno appena iniziato a camminare qua siamo al confine con la svizzera avete visto anche la bandiera svizzera cazzo l'acqua è trasparentissima allora direzione lago delle streghe ma non è vero? come no? si è vero lago delle streghe poi lago di devero si andiamo al lago delle streghe andiamo al lago delle streghe guarda che stai inquadrando di qua Zoe dove? da te? è prima me guarda abbiamo preso questa posta per i cagnolini si visto che papà doveva andare a prendere la pettonina per Rocco io ho comprato questo per i due tu ci verrai qualche giorno in casa? tu ci verrai qualche giorno? no ma quanto si mangia? hai già fame? anche io wow bravissimi avete guardato la palude di fango tentativi brava anche te brava ma tu sei più grande amore anche le stecchine ho tutte le calze ero e marroni ce le ho da cambiarti ma è tanto sono brutte queste copie anche dopo ce le ho da cambiare ora senta la gatta qua la faccia ok la gatta presente Rocco presente brando Zoe Divina mamma presenti possiamo proseguire ho c'ho tre cani tre cani dammi su il tuo guinzaglio è vero vescica? si ma non le metteva da un po' guarda che brava la mamma che c'è i cerotti a portata di mano ma a me pensano a tutto com'è però la prima camminata di stagione? molto male perché un drone ci sta spiando e adesso noi quando ci poseremo andremo noi con il nostro drone in aria e vi faremo vedere quei tizzi da che ci stavano spiando spiando madonna che lingua lunga e velenosa ma noi sappiamo fare con i drone così sembra sempre quando noi c'ha sempre quasi capitale wow spettacolo sulla sinistra potete ammirare un primo prototipo di rinno ring da pugillato ma no luteranno per qualche animale per qualche caprezza ecco la famosa diga facciamo un bel video anche per la nonna che è sempre a casa poverina nonna se guardi questo video noi non siamo nelle montagne di neve noi siamo nelle montagne non di neve e guarda abbiamo provato hai visto il lago di Devero questo che la nonna almeno che non può uscire e facciamo vedere noi qualcosa in prima persona come se si potesse godere anche lei un po' la gita grazie a tutti 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 grazie a tutti